Il Polioambulatorio Specialistico Spazio Medico è un luogo dedicato alla salute e al benessere delle persone nel territorio di Ostia Lido in via delle Bermude numero 12. La struttura vuole essere un punto di riferimento per tutti, dove accedere a prestazioni specialistiche e ambulatoriali innovative. La cura del paziente inizia dall'accoglienza. Le varie aree, infatti, sono senza barriere architettoniche e accessibili senza il minimo disagio. Le sale per le visite sono dotate di strumenti diagnostici di ultima generazione e di tutti i comfort. Spazio Medico mette a disposizione dei propri pazienti un servizio per esami stologici e citologici, Visite specialistiche eseguite da medici altamente qualificati. Visite domiciliari, esami diagnostici con referto immediato, servizi di medicina estetica e infermieristici. Ubicata nel quartiere di Ostia Lido, la struttura sanitaria è facilmente raggiungibile con i mezzi propri ed offre il parcheggio gratuito, con i mezzi pubblici poi e a 200 metri dalla metropolitana, fermata Lido Nord. Spazio Medico mette a disposizione dei propri pazienti una sala operatoria, realizzata secondo le attuali norme CE e autorizzata dalla Regione Lazio, dove si eseguono interventi chirurgici ambulatoriali in anestesia locale, anche con tecniche mini-invasive. La filosofia di Spazio Medico vuole essere un insieme di proposte che migliorano e crescono insieme a pazienti che non vogliono una semplice struttura sanitaria, ma cercano nel proprio territorio un punto di riferimento attraverso il quale accedere a prestazioni specialistiche e chirurgiche sempre di ultima generazione. Spazio Medico vuole intraprendere un percorso di umanizzazione, ponendo il malato al centro della cura, con i suoi sentimenti e le sue credenze, rispetto al proprio stato di salute. Grazie.